Benvenuti sul canale e oggi ovviamente come vedete presenteremo il catalogo numero 5 della Oriflum Cosmetics che inizierà tra l'altro il giorno di 30 marzo e finirà il 19 di aprile presenterà il nuovo profumo dalle Giordani Golds Essenza Blossom, molto amato come profumo da molti, quello original Essenza, ma questo penso che sia una sorpresa illimitatissima. 45 anni di Giordani Gold, ovviamente tantissimi prodotti della Giordani che è un marchio ispirato all'Italia. Qui abbiamo il nuovo profumo che sarà in promozione e che tra l'altro lo potete acquistare il campione nel catalogo numero 4, potete già sentirlo con me. Sarà in promozione a 30 euro, resistente, molto resistente, bellissimo, molto molto carino e tra l'altro la confezione, che sarebbe anche il tappo, è placato in oro vero. C'è anche un certificato che arriva ovviamente insieme al profumo. Se fate un acquisto di 25 euro da questo catalogo, potete acquistare a solamente 9,50 euro questo, come lo posso chiamare, non so, della Giordani ovviamente, sempre Giordani, molto carino, sembra molto carino, al ciondolo con la catenina per quest'estate. Penso che sia un ottimo prezzo per 25 euro di spesa sul catalogo. Finalmente la novità, la novità che tra l'altro è uscita di molti paesi molto prima, ma da noi sta uscendo adesso, è il cushion, il famoso cushion, il famoso cushion che molti volevano perché lo producono in pochissimi marchi. Lo produce la Dior, lo produce la Origin, che tra l'altro la qualità è assolutamente, guarda, non vi dico ma provatelo, è un ottimo cushion, l'importanza che voi lo trovate il colore adatto. I campioni di questo colore di cushion ovviamente non sono disponibili come campioni perché il cushion non è un fondotinta proprio quello tradizionale, il cushion è una spugna proprio con questo fondotinta e questo prodotto è che ovviamente vi mette il prodotto sulla vostra pelle uniforme, ma anche vi copre i pori e tutto il resto. Quindi secondo me molto fine, questo l'ho sentito perché l'ho guardato tantissimo quando è uscito a giugno in Europa dell'Est, ovviamente l'ho guardato molto bene. In più ci saranno anche dei ricambi perché in realtà poi potrete acquistare solamente i ricambi dei colori, ma il cofanetto, quello con lo specchietto e tutto il resto lo potete lasciare con me. Vedremo, comunque costerà anche questo prodotto su 30€, penso che, beh, 30€, la Dior costa sui 150€, immaginate che comunque risparmiate. Qui abbiamo sempre dalla Giordani che il correttore contorno occhi, poi abbiamo la base per il trucco, buonissimo, bellissimo, veramente con queste paline che vi si adattano e anche più che altro opacizzano la pelle, quello è veramente buono. E poi abbiamo il fondotinta per la pelle grassa, quindi assorbe il grasso e la vostra pelle diventa, non diventa lucida, vi toglie lucidità che costerà su 9,50€ e invece la base per il trucco costerà solamente 12,50€. La novità, sempre dal Giordani, sinceramente non ho capito cos'è, ma penso che sia. Intanto c'è la matita per contorni occhi e costerà solamente 8,80€. E poi ci sono, mi sembra, due correttori o due matite che, non ho capito, molto sfumature. Allora, penso che voi lo capiate, sono due colori e costeranno 10€, non ho idea cos'è. Qui abbiamo sempre dal Giordani alcuni accessori, abbiamo anche la mascara in promozione, tra l'altro una mascara con oli e l'acido iuronico che tra l'altro vi curano anche le vostre ciglia, perché, attenzione, le ciglie, quando rimanete senza ciglia ovviamente non ricrescono così facilmente dopo. La promozione ha anche l'orologio della Giordani che fa uscire per i suoi 45 anni di anniversario e costerà solamente 32,50€. Ci saranno anche i rossetti che andranno in promozione a solamente 8,80€. Qui abbiamo il sede della Giordani, Miss Giordani, profumo e lozione per il corpo, che tra l'altro profumo costerà 15€, no scusate, 13,50€ e lozione costerà su 4,50€. Qui abbiamo Giordani per lui, Mister Giordani, è un profumo classico, molto sul classico, molto sull'italiano, molto fresco, perché comunque contiene il grapefruit, che sarebbe la... non ho idea, pompelmo. Contiene anche i fiori e anche la corteccia. Comunque profumazione media per uomo, ottimo profumo e costa su 14,50€. La promozione online troverete tantissimi prodotti se siete iscritti. Quando ci sarà il catalogo disponibile per l'acquisto, ovviamente troverete tantissimi prodotti con lo sconto. Qui abbiamo la The One, che andrà in promozione a solamente 3,80€ i fard, a vari colori, tra l'altro ottimi fard. Ho sentito parlare molto bene sulla recensione di questo fard, proprio questo prodotto rinnovato, perché è stato rinnovato anche. Qui abbiamo tantissime altre cose del make-up, ma comunque ci siamo soffermati in altri cataloghi a parlare di questi prodotti. Solamente qua sono presenti in promozione. Il mascara del catalogo scorso, 5 in 1, che va sempre in promozione, ovviamente come normalmente secondo il catalogo di promozione, va in promozione a 5,50€. Qui abbiamo la novità molto attesa, molto attesa di questi fard, della The One, tra l'altro, a questi vari colori, che comunque costeranno solamente su 9€. In più ci sarà la promozione anche il pennello, molto buono pennello di qualità, veramente ottima qualità. Avremo anche l'Hash X-Station in promozione, che sarebbe riprodotti dalla The One, delle make-up ovviamente sono usciti prima e li abbiamo già revisionati. Ci sarà uno smalto idratante per le unghie in promozione, che sarebbe la novità anche di questo catalogo solamente a 4€. La Z, allora, se non usate il fondotinta, ma usate, ma vi serve qualcosa per coprire i vostri pori, magari non molto visibili, o magari delle cicatrici, o magari delle pustole, la crema AZ è un ottimo prodotto per questa cosa. costerà solamente 7€ e è veramente buono. Ovviamente prima di usare questa crema fondotinta usate una base, potrebbe essere anche il primer della The One, che tra l'altro lo vediamo vicino a solamente 5€ in promozione. Qui abbiamo la novità, la base per le unghie, per togliere poi lo smalto più facilmente. Andrà in promozione a 4,50€. Qui abbiamo i nostri, come si, il balsami, che tra l'altro io ce l'ho, lo uso, mi piace molto, io ce l'ho quello più chiaro ovviamente. Ottimo balsamo, ottimo profumo, mi piace la crescita e il resto. Ma mi piace molto anche il packaging nuovo, perché quel packaging vecchio che c'è stato, quello bianco, poi dopo un po' si rompeva, si rompeva. Questa è molto più resistente, made in Germany, perché lo fanno in Germania, e un ottimo anche protettivo per le labbra, comunque. Qui abbiamo il rossetto nuovo del catalogo scorso, Metallic, che sicuramente lo conoscete già. In promozione vanno i rossetti Bowershan HD, se vi piace, non so, il dominante e tutto il resto. Abbiamo varie promozioni anche dei fard, di fard, no, di fard, di fard, sì. Ottima promozione dei fard, perché costeranno 3,30€ ciascuno. Qui anche della The One, ma ovviamente passiamo. In promozione va la crema ad aggiorno della Diamond Cellular, che comunque è una crema adatta per 40 anni in più e contiene anche la polvere dei diamanti, come si dice. Uno crede, l'altro non crede, ma comunque il prezzo in promozione sarà di solamente 14€. In più potete acquistare anche il trattamento notturno e l'acqua micelare, che è buonissima l'acqua micelare. Io ho una cliente che mi ordina sempre la crema, ma ne ordina 10 cremine. Adesso mi ha richiesto, quindi aspettiamo il catalogo, perché ovviamente avrà l'ordine. La Royal Velvet, anche questa 40 anni in più, è un'ottima serie se volete solo una crema da utilizzare per sostenere la vostra pelle curata. La crema notturna in promozione a 10€ e la maschera, che tra l'altro non bisogna rilavarla a 1€ solo. Tra l'altro provatela questa maschera perché contiene anche l'acido ioloronico. È un'ottima maschera in realtà. La linea Optimal si starà rinnovando, infatti vediamo tantissimi prodotti che sono ultima volta presenti sul catalogo. Sì, quello è vero. Quindi se vi piaceva questa linea, acquistate ancora questi prodotti perché sarà rinnovata sicuramente, quindi vi faccio notare questa cosa qua. Abbiamo anche questa linea, sempre della Optimal's M&Out, sarà rinnovata, sì, ma un po' più tardi e vediamo che è in promozione quasi, no, in realtà tutto il set, probabilmente quasi, sì, tutto il set ha dell'ottima promozione. Una crema notturna, una crema da giorno, un cotterno occhi e un siero, cioè in realtà quanto costeranno? Costeranno su 110 lei, sì. Meno di 30 euro, cioè ottima promozione. La novità del catalogo scorso sono la tender care alla menta e la proverò sicuramente, 2,50 euro. Eco Beauty presenta contorno occhi. Eco Beauty ovviamente è una serie che comunque più ecologica che fa, nel senso che vi toglie le rughe, ma è adatta anche per le persone da 25 anni in più. Sicuramente non vedrete miracoli, nel senso se avete delle rughe da togliere, questa novela toglie le rughe. Vi manterrà solamente la qualità della pelle alta, ma per togliere le rughe dovete passare alla serie Novecce, che poi la vedremo. La Pure Skin, la serie per ragazzi, anche va in promozione con i prodotti. Lo stesso anche la Ancient per tutti i tipi di pelle, che sia da uomo o che sia da donna, quindi è una serie molto basica, ma tra l'altro è buona perché comunque l'ho provato, tante cose della Essentials e non è male. Eccola qua, la serie, nuova serie in promozione, che tra l'altro è una serie rinnovata perché hanno venduto il... allora, l'azienda ha venduto il brevetto a un'azienda molto molto più grande e quindi ha creato, ha rinnovato il suo brevetto della serie Novecce, Novecce, che in questo caso è la Lit, Ultimate Lit, è comunque sì, è stata rinnovata. In promozione intanto c'è il gel per lavarsi il viso due in uno della Novecce, Placing Gel, ottimo gel, ottimo, veramente, 11,30€, è molto amato da tantissime, tante persone al cui sono anche solamente questo gel. E questa è la nostra serie rinnovata che costerà in promozione, come normalmente sempre, a 75€. Altre serie che sappiamo già, li conosciamo, comunque sto usando la serie della Skinnergy e mi piace molto, tra l'altro il siero che va in promozione a 17,50€, ha un colore perlato e comunque vi rende la pelle veramente illuminante, molto buono come serie, come Setsmage. Qui abbiamo la cura per le mani in promozione, la crema Novecce, l'antica con SF25, molto importante per questo periodo che comunque sta iniziando ad arrivare il sole, che il primo sole, come sapete, non è un buon sole. Le vitamine, le vitamine assolutamente vi le consiglio e sono ancora in promozione, vitamine da uomo che durano per due mesi, tra l'altro, vanno in promozione a 13,50€ e le vitamine anche da donna a 13,50€, ma se acquistate uno e l'altro, che sarebbe magari per la famiglia, per due mesi, un prodotto vi costerà su solamente 11,30€, quindi 23€ per due mesi di vitamine da uomo e da donna. Se siete in una famiglia, ovviamente ottimo prezzo. Antextrassina, un ottimo prodotto, lo sto usando, sì, mi piace molto, 15€ sarà in promozione, ma ci sarà la promozione interna per i consulenti che acquistandone, mi sembra, due, la terza, ma in regalo, una cosa del genere. O si abbassa il prezzo. Qui abbiamo gli Shake, qui abbiamo l'Omega, che è andata in promozione poco tempo fa e l'ho avuta in ordine, che tra l'altro è un'ottima, ottima promozione, 17,50€. Omega, abbiamo acquisti. Amber Elixir in promozione, andrà in promozione a 15€, un ottimo profumo. Amber Elixir Crystal, molto più fresco degli altri, anche se sono, gli altri sono più floreali. Qui abbiamo vari profumi in promozione, ma Sofivre in promozione, che tra l'altro molti aspettavano questo profumo, perché era molto interessante andare in promozione a 14€. A me piacciono i profumi, quelli della Woman Collection, che tra l'altro saranno presenti ultima volta sul catalogo. Mi dispiace molto, ma veramente per poco li tolgono. Qui abbiamo tanti altri profumi in promozione. Questo set da tre pezzi, che sarebbe One Collection Innocent White Lilac, che sarebbe la lila bianca. La crema per le mani, il sapone della Love Leachers, andrà in promozione a solamente 12,50€. Qui abbiamo il set da Woman at Home, in promozione a 15€, il profumo è il deodorante. Vari profumi da Woman at Home, il bestseller, ottimo profumo Flamboyant. Se volete regalare un bel regalo a solamente 13,50€, questo profumo è un ottimo profumo, è anche resistente. Vari novità da uomo, che sono profumi dopo la doccia, vediamo 5€. Tutti, ma anche la schiuma da barba, che tra l'altro ottima schiuma da barba, della Oriflame. Se siete un uomo, magari siete un marito, magari siete un fratello, provatela. Vi dura per mesi, 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 ma è buonissima. Se da uomo è anche acquistabile 50€ in promozione, ma anche in promozione a solamente 15,50€. La crema notturna. Qui abbiamo la promozione dello scrub e l'olio della Stradish Spa, un ottimo scrub, uno dei migliori scrub che ho mai provato. Andrà in promozione a 11,30€ e l'olio andrà in promozione a 7€. Penso che sia uno dei prezzi veramente più bassi di questa linea della Stradish Spa che ci è stata in questi ultimi cataloghi. Quindi sì, assolutamente, adesso scrub servirà perché arriva l'estate, dobbiamo togliere anche la pelle un po' morta. Qui abbiamo la promozione dello softcares disinfettante per le mani con 70% dell'alcol, che andrà in promozione a solamente 3€ e le creme a 2€ della softcares da 100ml. Provate una da notte, una da giorno, ma queste creme per le mani sono veramente ottime. E' così poco. Essentials, la novità, il sapone per le mani. Sapone per le mani che andrà in promozione a 7€ con il diffusore. Carino. Se vi piace questa linea dell'Essentials, che tra l'altro il dolce e schiuma dell'Essentials, come tipo questo shower gel sporificante, è ottimo, veramente ottimo. Molto buono come prodotto. Qui abbiamo l'olio per i capelli della Ultime Repair. Io ho una cliente che li utilizza assolutamente. E ovviamente acquistando qualsiasi prodotto da questa pagina, che sarebbe il shampoo, quindi da 102 a 106, la pagina da 106, potete acquistare una qualsiasi, come vediamo là sotto a destra, qualsiasi spazzola ha solamente 3,30€. Quindi qualsiasi prodotto acquistando da questa pagina fino a 106, c'è anche la nuova linea della CarX per caduta dei capelli, che la proverò tutta e va in promozione, quindi mi piacerebbe provarla, perché tra l'altro è una linea che mi piace molto. E potete anche da qua, che c'è il balsamo dell'Eleo. Se avete acquistato dal catalogo scorso lo shampoo dell'Eleo, provate anche il balsamo. Quindi è un ottimo balsamo, va in promozione a solamente 5,70€. E un ottimo anche l'olio per i capelli notturno, che va in promozione a solamente 10,50€. Acquistando questi prodotti, uno dei prodotti, avete la possibilità di acquistare la spazzola, qualsiasi spazzola, o 2 o 3, dipende da quanti prodotti avete acquistato, solamente 3,30€. Ottima promozione, qui abbiamo Occhio Fresh System, spazzolini che vanno a 2€, che tra l'altro attenzione li cambieranno, l'ho già vista i nuovi spazzolini, sono bellissimi, questi vanno ultima volta sul catalogo e non ci sarebbe più, quindi se vi sono piaciuti quelli acquistate. Baby Ho andrà in promozione, l'olio a 10€ e tutto il resto. Deodoranti sono ottimi, quindi quando ci sono la promozione da 3€ di odoranti, è un ottimo odorante, perché alla fine dovete anche fare il corto, che poi non pagherete 3€, pagherete molto meno. Intimi, ottimi intimi a 5€, sono Gente Shotting Rifrescante, che è un ottimo rifrescante, ma anche molti amano il Family Tense Gently, che sarebbe adatto alle persone da 18 anni in su, anche, scusate, fino a 25 anni. In realtà si può usarlo anche dopo, però è più adatto a quell'età. Qui abbiamo piedi, abbiamo la spatola ovviamente, li abbiamo visti, passiamo anche, pure per i piedi, abbiamo anche la linea dell'Essence & Co in promozione, quella nuova con gilsiamino e la mandorina verde. Abbiamo la Milcani in promozione, l'ultima volta sul catalogo l'esfoliante per le mani, sicuramente perché cambierà. Da tantissimo tempo non trovevamo lo shampoo al cocco così grande, ecco qua, uscito, riuscito, andrà in promozione a 7,50€. Andrà anche in promozione l'olio di mandorla per la pelle e per i capelli, a solamente 4,50€, e la maschera per i capelli, all'avocado, va in promozione a 1,50€. Tantissimi prodotti dall'All of Nature, e c'è la promozione anche sull'acquisto, su due. Acquistando due, ogni prodotto, ciascuno prodotto di questi tre piccoli, di questi tre bagnosimo, che sarebbe multifrutto, aloe vera e oliva e magnolia, vi costeranno normalmente su 3,50€. Acquistandone due, vi costerà 2,50€ ciascuno, quindi risparmierete un euro su ciascuno, se acquistate due. Promozioni anche sulle confezioni molto più grandi, come 750ml aloe vera e oliva, che costerà solamente 7,50€, e l'esfoliante, che è molto buono, costerà solamente 6,30€, quella di 500ml. Poi abbiamo sapone per le mani, sapone e tutto adesso che tra l'altro lo conosciamo. La maschera al citriolo è buonissima, costerà 80 centesimi, che è quella al citriolo, che è la maschera, quella all'avena, da provare. L'All of Nature presenterà antibatterico, ma anche un purificante, fai salt. Questo l'olio è fortissimo, perché mi ha tolto tantissimi problemi quando avevo rossamenti, bruffoli e tante cose. Costerà 3€ e ve lo consiglio tantissimo. Potete, se avete la forfora, aggiungere magari 3-4 gocce nel vostro shampoo e lavarvi anche i capelli. Potete anche sciacquarvi la bocca, quando fate lo risciacquo, dopo che vi siete lavati i denti, aggiungendo nell'acqua tiepida qualche goccia di questa prima. Ottimo prodotto, veramente lo consiglio, sì, lo consiglio tantissimo. La novità che uscirà ha anche questo set, che costerà solamente 8,80€, e sarà una crema, ci sarà una maschera gelatina e uno scrub per il viso. Tutti i prodotti, allora, la maschera e lo scrub, che sarebbe lo scrub marmellata, costeranno solamente 5€ e la crema costerà solamente 4,50€. La linea Love Nature sta presentando la sua nuova collezione. e mi piace molto anche il prodotto in sé generale. Ottimo prodotto. In più potete avere anche questo asciugomanino, si può chiamare, non lo so come lo si potrà chiamare, 3,50€. Ottima promozione da provare. Se avete acquistato qualsiasi prodotto dalla pagina 96 e 129, avete la possibilità di acquistare lo shower gel crema della Milk Honey Gold a solamente 3,30€. In promozione va un set di una crema, un tender care classico e un mascara a solamente 6,50€. Ottimo, ottimo, ottima promozione. Ribadisco, veramente ottima promozione. Se magari va anche di acquistano un mascara o una crema o un tender care a parte, la potete veramente, un'ottima promozione. Qui abbiamo la promozione della settimana. La prima settimana dell'acquisto sul catalogo c'è questo profumo Eclat Amour a 10€. La seconda settimana c'è la maschera notturna a solamente. Tra l'altro un'ottima promozione. Se acquistato dalla seconda settimana va in promozione a 9€. E poi la terza settimana c'è Eclat Amour che per la donna a 10€. Super promozione dall'ultima pagina che sarebbero i smalti a 2€ ma anche la paletta a 2€. Potete acquistare qualsiasi smalto a solamente 2€. Bene, il catalogo è finito. Se è piaciuto il video stato informati su tutti i prodotti della Orifem. Intanto vi ringrazio e vi saluto. Ciao.